E infatti il grande problema della scuola di oggi è come insegnare a filtrare le informazioni di internet, cosa che neppure i professori di solito sanno fare perché anche loro sono dei neofiti rispetto allo strumento. Quindi uno dei grossi problemi e drammi del nostro tempo. Uno, ho cominciato a proporre che i giornali invece di raccontare tante impetegolezze eccetera, dedichino due pagine ogni giorno all'analisi critica dei siti. Se il loro nemico è la rete, invece di continuare a fare il giornale perdendo copie, battano la rete su quel punto lì. Questo implica che però i giornalisti si preparino molto bene e siano capaci a fare l'analisi di critica dei siti, dire questo è una bufala, molto sì, questo no. L'altro è che un bravo insegnante dica agli studenti, questo è il tema, copiate liberamente da internet, intanto copia non è sapere copiare bene una virtù, ma usate almeno dieci siti, in modo che sono portati a paragonare tra loro i siti, accorgersi che ci sono delle contraddizioni e nasce un problema critico, è l'unico modo. Non solo Wikipedia, ma la maggior parte di studi. Ma Wikipedia ancora, diamo bene perché c'è il controllo, ma è tutto. Perché un professore non può analizzare i siti? Perché un professore di storia può capire se è un sito storico attendibile o no, ma se è un sito che parla della teoria delle stringhe, si racconta delle palle oppure no, è così dica all'opposto di un fisico. Quindi c'è niente da fare, devono essere da un lato i giornali che con specialisti diversi analizzano i siti e poi invogliare gli studenti a paragonare i siti. È l'unico modo, è l'unico modo. Come faceva Sant'Agostino, che non sapeva nell'ebrano quasi niente al greco, dice paragonate tra loro le traduzioni, forse vi viene in mente qual era il migliore. Signor Presidente, una domanda che forse è un po' cretina, sono Moris Rosetti e Repubblica. Cosa pensa di Twitter, dei social network, di questo flusso continuo, breve, gli utilizzato, inarrestabile, confuso, ma praticato da tutti, da giornalista, tutti opinionisti. Il fenomeno Twitter che permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri perché abbia una natura leggermente onanistica ed escluda la gente da tanti contatti faccia a faccia, crea però da un lato un fenomeno anche positivo, pensiamo a cose che succedono in Cina o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni, qualcuno ha detto se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler i campi di sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola alle giorni di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Certe volte basta vedere quando passa in basso i pezzi di cose, di Twitter, di vari... si vedono molto in contraddizione reciproca, sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, ma taschi stupidi, ecco, e che adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e ecco il filtraggio, uno non sa se sta parlando di un premio Nobel o... No, certo, la cosa interessante è che se tutti quelli che prima dicevano la loro imbecillità al bar adesso in un secondo le possono twittare, però anche molti professionisti della comunicazione, molti interventi non sono solo fake, effettivamente compiono la stessa azione. Allora lì diventa difficile, cioè quando uno segue delle persone a cui si dà credito sui giornali di carta, non è che diventano imbecilli in 150 caratteri. Come fare a, come dire, a captare informazione ricca e vera anche lì e non finire la tritta carne dove tutto alla fine è scemezza? Captare l'informazione giusta e siamo di nuovo al problema del filtraggio. E' chiuso, io so filtrare certe cose in batteria che so e non so filtrare. I giornali si facciano un'equipo. Quanto alla, l'invasione degli imbecilli, io credo che dopo un poco si crei una sindrome di scetticismo. La gente non crederà più a quello che gli dice, a quello che gli dice Twitter. All'inizio è tutto un grande entusiasmo, a poco a poco dice chi l'ha detto? Twitter. Quindi tutto è male. È come se una volta l'orario Palaggi o l'orario Pozzo cominciano a pubblicare due notizie false su Trello, Torino, Pinerolo, dopo un po' nessuno lo compra più, non si fida più, ci si fida perché di solito ha dato sempre notizie esatte. Quindi è una fregatura anche per i comunicatori che in teoria non direttano scemenze. Sì, non crederanno neanche più a loro. Intanto come posso essere sicuro che un messaggio è davvero di Papa Francesco. Quando uno può fingere di essere Rita Erwart è invece un marisciallo di Carabinieri dell'Ipolso. Professore, sono Ludovico Lani, blogger, sono un blogger di un giornale a parte dell'Opera. Volevo chiedere, la differenza tra che fa con un'azione privata e quella collettiva, c'è una differenza tra l'essere molto imbecilli e molto astuti nel momento in cui con un'informazione privata si riesce a far parlare di una sfera molto collettiva. Penso a molti like, a molti mi piace, a questo passaggio tra il personale e il politico. a questo punto. Secondo lei vuol dire che ci si sta anche proiettando in una sfera più ampia e quindi nella consapevolezza oppure semplicemente un giorno? Credevo di aver risposto. Trovo estremamente positivo che possa nascere uno scambio di domande e risposte. Va bene? È quello che fa vivere un seminario universitario. Però quando dopo una conferenza mi chiedono voi le domande, chiedo quanti siamo. Perché la meteoria oltre 50 persone parlano solo i matti. Allora ci sono dei processi che sono positivi quando si è un gruppo ristretto e diventano invece delirio di folle perché parlano solo i matti. Perché i sali hanno un certo riguardo mentre i matti si lanciano e quindi oltre i 50 parla sulla parla. Certe volte anche con 60. Siamo ai limiti. Anche con 60. Insomma, c'è sempre il pericolo che nella folla si annidi quello che vuole uccidere bene e da chiedere. Insomma, e quindi il problema è in assolubile. L'ho detto, sono dei processi che da un lato hanno il loro aspetto positivo ma bisogna essere consci dei loro aspetti negativi. Il giorno in cui la gente finirà di crederci, ragazzi, peggio per loro, sarà però di nuovo un'ascolta nella storia delle comunicazioni. Cioè, era stata la televisione che aveva promosso lo scemo del villaggio. Cioè, sino a un giorno la televisione promuoveva quello che è uguale a te, spettatore, non più bravo ma uguale a me. Dopo, con i vari programmi trash, viene messo in scena lo scemo del villaggio, rispetto a cui lo spettatore si sente superiore e quindi sono tutti contenti. E il dramma di un internet diffuso è l'invasione e la promozione dello scemo del villaggio a portatore di verità. Allora magari sì, ma allora non è lo scemo del villaggio, è pazzo quello che... eccetera eccetera. Se per questo viene a contaminare la comunicazione politica, la stessa non è uguale. E sì, ma questa è una volta che avevano mandato al Corriere un falso articolo di Pasolini. Il Corriere lo aveva pubblicato, Scandolo, Pasolini, mostro, vero, 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 vero. Era nato un terrore nelle redazioni dei giornali. Non possiamo più dare fiducia a una cosa che ci arriva per posta, se non viene la persona... Sarebbe stato il blocco di tutta l'attività giornalistica. Io mi ricordo che avevo scritto, no, la società ha dei mezzi con cui difendersi. Oltre un certo limite sarà la società a limitare queste forme di privatizzazione, se non entrerebbe in conflitto il patto sociale. E infatti così è avvenuto. Nessuno ha più mandato il genere articoli fasulli, qualcuno è stato più attento quando riceveva... Ma non si è verificato. Che se si fosse verificato, nessuno legge la pigionare. Perché non erano più debili di fiducia. C'è stata una difesa sia da parte istintiva del pubblico, sia da parte delle redazioni. Può avvenire questo sui tre? No, dipende solo dalla capacità critica di chi ci naviga. Sapere riconoscere la fonte. Cosa che con i giornali, con le case elettrici, non succede. Se leggo il pubblico so che mi dici quale roba lì. E se leggo il giornale so che mi dici delle altre. Quindi credo. Predispongo le mie difese critiche. O se sono un libro di Gallimara, eccetera. Lo prendo più sul serio che se... Vieni, 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 vieni. E ancora una cosa, professore? Poi dobbiamo andare. Indipendentemente dal filtraggio necessario? Eh? No, indipendentemente da una maggior pura critica che i giornali di carta dovevano fare nei confronti dei siti per non farsi cannibalizzare. Anche se poi spesso sono i loro stessi siti a cannibalizzarmi. Ma qui è meglio non dirlo perché se no mi cacciano. Volevo chiederle una specie di ipotezia sui giornali di carta. Lei che futuro vede sui giornali di carta? Ma io sono sempre fedele all'idea di Hegel che la lettura del giornale è la preghiera quotidiana dell'uomo moderno. E quindi mi sentirei... Io credo che ci sia un ritorno al cartaceo. Perché non ricordo se è Google o chi ha comprato un giornale americano e un'altra... Cioè hanno investito sul cartaceo. Alcune... Sì, alcune aziende che hanno vissuto e trionfato in internet hanno cominciato a comprare del cartaceo. Due giornali americani. Ci si attedevano a un certo punto che Google comprasse le old times. Però il fatto che abbiano investito sul cartaceo, siccome non è gente stupida, dice che c'è un certo quale avvenire ancora per il cartaceo. A me non per gli anni che mi sono conseguiti da vivere. C'è un po' quello di me. Grazie, arrivederci.